Avviso di servizio, per motivi tecnici i suoni di Minecraft non saranno presenti nel video, ergo li ho riprodotti io vocalmente, scusate per la trasciata. Bene signori, bentornati in questo nuovissimo video e oggi siamo nella Warcraft 2. Ebbene sì signori, siamo entrati nella Multicore anche noi a Nikitos JLL. Oggi siamo con il buon Capitan Madness. Buon folle giorno signori! Allora abbiamo già fatto un video nel suo canale che vi invita ad andare a vedere dove esploriamo il dungeon, o meglio il posto dove mi vedete in questo momento. Che è un super dungeon, un super dungeon generato dalle mod che stiamo utilizzando, che non so esattamente quali siano. Comunque è una serie molto molto figa, voglio impostarla come Barbon Challenge, come avrete letto dal titolo, cioè andare in giro senza costruirci una casa. Questo è il primo dungeon che affrontiamo in due e dobbiamo ringraziare, come cacchio si chiama? Game Hosting! Game Hosting per il server fenomenale che ci hanno dato in concessione. Mi raccomando passate da Multicore che vi lascio il canale, la roba in descrizione. E noi siamo qua per far casino, vero Capitan Madness? Tantissimo casino! Abbiamo trovato uno spawner di Enderman, occhio, occhio, c'è anche qualcun altro, c'è qualcun altro qua. Eccolo, eccolo, c'è anche un'accetta diamantata. Ecco, lascia venire da questa parte, ce lo gestiamo tranquillamente, lo riempiamo noi di botte, ormai siamo il team della vita. Vai! Magari lasciate qualche pezzettino. Ascia di diamante, la vuoi? Sì! Bene, ma abbiamo trovato uno spawner di Enderman, ragazzo. È la vita! È la vita, sì. No, ne ho triggerato uno! Guarda, ti pareva che a me non succedesse. Eh, devi scappare male. Tiramelo via! Picchialo. Tanto io sono scudato, non dovresti farmi male, eh? No, no, cavolo, no, 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 no. Ci muoio! La mia tombuzza, dove l'abbiamo cacciata la mia tombuzza, sono scappato via, all'impazzata. No, perché mi ha triggerato sto bastardo? Ah, 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 ah! Bastardo infame Per te solo le lame Beccati salame in faccia Pezzo di sterco Allora ragazzi una cosa che non vi ho detto È che In questo pacchetto ci sono delle missioni Io ne ho già fatta una Cioè bags che mi permette di costruirmi Degli zainetti poi c'è redstone C'è la orca normale Che ha varie missioni incredibili Tra cui quella di poter scambiare I diamanti per I soldi per gli euro Abbiamo già intenzione di diventare I più ricchi del server Vedete questo tizio Questo è il suo fantasma Chi è che mi ha tirato una botta Sono stato io Ti ho tirato un colpo con una pozione di rigenerazione Perfetto Oh ma qua c'è un power 3 e un fortune 1 Ma perché oddio mio C'era anche una trappola a quanto pare Mi serve immediatamente una handbill No sai che mi sa che ce n'è una Io nella mia borsa Ce l'ho anche io Ce l'ho detto Ti ho dato che ormai io sono come Doraemon qua C'è un wither skeleton Cosa? C'è È un wither skeleton Ma cos'è sta roba? C'è un wither skeleton C'è lo spawner di wither skeleton qua Ma siamo fulminati Ma non è lo spawner questo? Sì ho trovato Ti giuro che è uno spawner È uno spawner di wither skeleton? Credo di sì Ho cavato la torcia Adesso vediamo Oh santo Lo chiudi No è normale Vai che lo fregge Bello sto scudo Lo voglio io Lo stavo dicendo io Quanto è figo Dammi lo scudo Pezzo di merda Noi facciamo collezione di scudi Facciamo scudi No Forse entrare così di cattiveria Contro la faccia ai ragni Non è stato intelligente Aia Ok C'è il piccone di diamante Questo Lo voglio Dammi Il mio piccone Vediamo se lo troppa È andato No Ha dato i piedini di ferro No Quelli ce l'ho già Che sfiga Aiuto Vado nella tua mini farm Ok No ma perché io devo essere così oggi Perché deve andare tutto male a me Ho trovato Ho trovato un biscotto Oddio Ho trovato un biscotto incantato Con sharpness 2 Knockback 1 Cosa fa Ma cosa Non la serve Perché Salve Esatto No hai aperto Oddio Al volo a bloccare Ragni velenosi Guarda cosa c'è qua Ragni velenosi Ragni brutti Ragni brutti Ragni brutti Corri 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 Ok ho sbagliato tutto Ci sono spuntato le tue spalle Io dovevo andare sotto Allo spawner Ah l'hai rotto perfetto Sì l'ho rotto io Sì Bene ora andiamo nella zona più interessante In realtà Eccola qua Peccata signori Peccata Sì era questa qua se non sbaglio La zona più interessante E più difficile tra l'altro Moriremo bruciati Vabbè questi si stanno massacrando male Questi si stanno facendo una royal rumble Quella Ahia Ma perché mi picchiano tutti Oddio mio No Qua c'è una pozza di lava Ah no Mi sembrava di aver visto uno spawner di blaze Mi sono preso male No Non vedo nessuno spawner di blaze No Io ho il terrore che Se cadiamo tipo Nella lava Ecco il blocco di carbone Qua c'è Spawner E c'è un botto di lava Ma non un botto Un botto Un botto Guarda che figo E adesso? Eh continuiamo a cercare Per adesso pensavo fosse un po' più cicciotta Questa zona Beh ma guarda che Eh c'è un blaze E il blaze c'è Vedi che ci sono Allora c'è lo spawner da qualche parte Eh andato qua sotto Cavolo guarda che è pericolosissimo Oddio Arrivano dal soffitto Eh già Eh là sopra È là sopra lo spawn Stupido Ragno No 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 sono morto sono morto sono morto Scappa scappa Io cerco di raggiungerti velocissimo E tappo Mi son chiuso con un po' di ferro Ok Mezzo cuore di nuovo Mezzo cuore di nuovo Ti sto bardando in realtà Perché ho paura che Ti sottino con qualcosa Oh merda Flame e reading Non so cosa sia reading Ma Smice 4 Eh la lava Eh mi son chiuso di fianco a una cesta No La prossima cesta la voglio aprire io Eh porca troia Ti trovi tutto quel pen di dio Ho anche una blazer Divento un P Qua si torna indietro E direi che Ah aspetta però Ci sono altre due strade da percorrere ragazzo mio Cosa c'è Oh porca merda Hai presente quanto ci vuole per trovarne una A posto Questa la vendiamo E la vendiamo a un prezzo d'oro Inche quella Oh Sta arrivando zombie che fanno cose strane Oh Ovvio Guarda lì come marcia Chiudi chiudi Ah già tu non hai da chiudere Non ho più blocchi nemmeno io Aia Corri Ritirata Vieni qua Vieni qua dietro Ok blocca qua Vieni qua dietro Perché io c'ho solo Pezzi di strozzi Oh Trovato due loot bag Ma c'è un creeper Salve signor creeper Io le voglio molto bene Se lo ricordi vero Siamo salvati Scheletri 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 Vuoi andare di qua? Va bene Vai Perché ci sono tantissime loot chest Sharpness 4 Luck of the sea 3 Efficiency 4 Sette pozioni dei livelli Clay Questo è per te Stringhe Oh bandonna mia Io invece mi sono preso una cesta con respiration E mi stavo per prendere una freccia in testa Quanta diavolo Cadono dal soffitto Sembra una trappola Siamo come i personaggi nell'ho Negli horror Noi ci dividiamo Aspetta è passato di nuovo uno zombie invisibile È un micro zombie con l'invisibile No mi fa un botto di danno sto morendo Morto Ok Grandissimo Perché avevo solo 4 cuore e mezzo Qui c'è una cesta Hai delle scarpe veramente belle Però le Oh c'è il caffè Sì Prendilo È bellissimo C'è il caffè Io amo il caffè Io sono un bevitore Accaito di caffè Sì anche io decisamente lo prezzo Eh andiamo Diamante Perché sì Stavo guardando se avessi fortuna anch'io Due diamanti Quattro Oh mio dio Ho visto Cinque diamanti Dai Te le lascio tre Perché io uno ce l'ho già Grandissimo È mamma mia Mamma mia Io faccio un tentativo di corsa Cercare di cacciarci su le torce Ok io ci sono Vedo il soffitto Ok Provo Provo andare Giusto due blocchi sopra Ho preso il wizard skeleton Ho preso il wizard Ho preso il wizard Salvo salvo Ah ecco Vedo dell'acqua che scende Eh sì ho sbagliato io Ho rotto Ho rotto per sbaglio un blocco C'era sopra dell'acqua Wizard bastardo Dammi la tua testa Dammi la tua testa Pezzo di merda C'è tutto Ho anche l'armatura diamantata Incantata Dammi quello che c'ha Facci cattiveria E deve essere solo una la via eh Dovrebbe essere Qua Trovata Vieni Eh non ho illuminato bene Oh no sei andato all'altra parte No Sei rimasto solo Wizard 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 Ti vedo Ma abbiamo scelto due strade diverse Siamo dei matti Eh giustamente Giustamente siamo fatti No No sono bloccato Sono bloccato dentro con un guider Il mio problema è Come torno io da te Dai ritentiamo a sinistra Mi raccomando Ok fermo prima Fammi ricaricare un attimo Perché ho meno tre cuori Ok ci sono Ok andiamo Dritti Vai A sinistra Ci sono È cascato qualcuno Sono la tua ombra Qua c'è gente Qua c'è gente Viene ad accapparli Io blocco dietro Sì perché vedi che stavano arrivando Ok viene Morti tutti Morti tutti Uh Ti stavo per tirare una spadata Piccone di diamante All'ultimo Ah Preso Bene signori No ok Bene signori Qua da Capitan Man Madness e Jack degli Anic Sotto se è tutto Mi raccomando lasciate un like Iscrivetevi Andate a vedere l'episodio Da Capitan Madness È molto molto importante Che fighe le animazioni Porca mia Qui dalla Warcraft è tutto Mi raccomando Scaricate il pack Ci sono le istruzioni Nel canale del multicore network Ti volevo aiutare ma mi sono pallato Ciao a tutti Grazie per la visione Ci vediamo nel prossimo video Ciao Buon folle Addio No buon folle ritorno Io direi Va bene così Ciao ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti